You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. Hunger Games, un nuovo fenomeno cinematografico mondiale. La storia si svolge in un futuro post-apocalittico e come protagonista femminile troviamo Jennifer Lawrence che già abbiamo apprezzato nel precedente film Un Gelido Inverno, Hunger Games. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Antonella vi aspetta ancora qui per tanti utili suggerimenti di cinema. Ciao! As time goes by Grazie per la visione!